Grazie a tutti. Grazie a tutti. I investimenti inseguono il rendimento e, aggiungo io, forse in Italia il rendimento è sempre stato più alto nei settori protetti dalla concorrenza internazionale, per cui un paradosso nel nostro Paese è che gli investimenti che ci sono stati sono stati più in quei settori, forse che non nei settori esposti alla concorrenza. E per via delle tante distorsioni ricordate nel libro, la globalizzazione contiene sia delle opportunità che delle minacce, perché si è costretti a competere. E per via delle caratteristiche dell'economia italiana hanno prevalso gli aspetti negativi e l'economia italiana non è riuscita a cogliere le grandi opportunità che dà la globalizzazione. E io penso che è corretta assolutamente l'impostazione del volume. Questo in gran parte non è dovuta a un'unica causa, è dovuta a una molteplicità di cause che riguardano proprio il funzionamento dello Stato, i rapporti tra lo Stato e il cittadino. Lo si vede nel funzionamento della giustizia, della pubblica amministrazione, nell'evasione fiscale, nella pressione fiscale, nella spesa pubblica, nell'università, nel sistema delle istruzioni, nel fatto che i giovani più brillanti scappano nel mercato del lavoro. Quindi ci sono tanti aspetti che implicano poi questo prevalere degli aspetti negativi della globalizzazione e l'incapacità di essere riusciti a cogliere le opportunità. Per inciso non è, credo, solo un rapporto di dimensione dello Stato, perché se noi guardiamo a chi è riuscito a cogliere queste opportunità, sono anche paesi come la Germania, come il Nord Europa, dove la dimensione dello Stato è forse per certi versi anche maggiore che da noi. Quindi è proprio il modo in cui lo Stato inceragisce con l'economia privata e con i cittadini. Per inciso, e questa è un'osservazione che forse il capitolo di Scacciavillani non fa, le opportunità oggi probabilmente non riguardano soltanto le opportunità esterne date dalla globalizzazione, ma le opportunità che non siamo riusciti a cogliere sono anche quelle date poi da settori non esposti alla concorrenza internazionale, come la sanità, l'istruzione, i trasporti. Una caratteristica di una ricerca recente sviluppata in un altro libro interessante che è uscito in questi mesi di Michael Spence. Michael Spence è andato a vedere dove sono stati creati i posti di lavoro nelle economie come gli Stati Uniti e la risposta è che i posti di lavoro sono stati creati nei settori che lui chiama non traded, una parte importante dei servizi e che non hanno un mercato internazionale. La sanità, in parte l'istruzione, i trasporti sono esempi di questo e anche questi settori sono fondamentali e probabilmente non sono riusciti a dare all'economia italiana le opportunità che avrebbero potuto proprio perché sono settori in cui è difficile far funzionare il mercato e il rapporto tra Stato e il mercato è fondamentale. Quindi riuscire a sottrarre dalla cappa dello Stato una parte importante di questi settori per consentirgli di offrire le opportunità di cui abbiamo bisogno è fondamentale. Penso alla sanità, in una società che diventa anziana come quella italiana, è chiaro che c'è una domanda sempre crescente di servizi sanitari. Riuscire a soddisfare a questa domanda senza essere razionati sulle quantità e potendo integrare poi il servizio pubblico con servizi privati è credo un aspetto centrale che però richiede di abbandonare il principio che alcuni di questi servizi devono essere offerti per tutti allo stesso prezzo e occorre la capacità di riuscire a integrare il sistema privato con un servizio pubblico che sono settori in cui è chiaro che ci sono estenalità importanti. Vengo alla domanda che ha sollevato Oscar Giannino. È per questo che è così difficile per via di queste caratteristiche dell'economia italiana che è stato così difficile attrarre capitali in Italia? In passato penso che la risposta sia senz'altro sì. Oggi le cose sono molto più complicate. Oggi credo che la risposta non dipenda più soltanto da noi ma dipende anche dalla credibilità del progetto dell'euro nel senso che purtroppo indipendentemente dai nostri sforzi se non si rimedia ai problemi gravi di credibilità che ha la moneta unica è difficile io credo uscire da questa situazione di crisi. Quindi questo non vuol dire che l'agenda politica ed economica che è al centro del libro non sia prioritaria. Continua a essere sempre fondamentale ma probabilmente a questa agenda occorre affiancare anche una preoccupazione che prima non c'era di stampo keynesiano di sostegno alla domanda. Dobbiamo stare attenti a non uccidere la domanda interna attraverso aumenti di imposte e soprattutto sono fondamentali poi i progressi europei perché credo che ci sia ampia convinzione da chi ci guarda dal di fuori e tanto più forte quanto più ci si allontana dall'Europa che la moneta unica è stata costruita su delle premesse che potevano funzionare bene nella routine quotidiana ma che non possono funzionare nei momenti di crisi. La premessa in particolare è quella della separazione della politica monetaria dalla politica fiscale. Le risposte che paesi come l'Inghilterra e l'America hanno dato alla crisi finanziaria implicano che la politica monetaria non è distinta dalla politica fiscale. Interviene la banca centrale ma intervenendo compie degli atti che hanno delle implicazioni fiscali fondamentali. La banca centrale europea ha le mani legate. Questa separazione tra politica monetaria e politica fiscale gli impedisce di prendere i provvedimenti che sarebbero altrimenti necessari. Naturalmente questa separazione tra politica monetaria e fiscale non è casuale, discende dal fatto che l'unione monetaria non è anche un'unione politica. Io credo che fino a che questo problema non si sarà risolto e quindi non ci sarà una maggiore integrazione politica che consente di abbandonare la separazione tra politica monetaria e politica fiscale il problema della credibilità e dell'afflusso di capitali verso il sud Europa sia difficile da superare. Le riforme a casa nostra sono fondamentali a questo punto anche per una ragione in più per consentirci di rendere possibile e credibile questa integrazione politica perché senza queste riforme i paesi del nord Europa non sono disposti a procedere. Ma io credo che senza dei segnali forti dall'Europa il problema a questo punto è difficile che lo risolviamo da solo. E naturalmente questa è un'incertezza che non svanirà dall'oggi al domani, che durerà a lungo ancora credo perché questi processi di riforma delle istituzioni di integrazione politica sono processi lunghi. Chiudo con una domanda che è una domanda anche credo per le azioni di politica economica che ci stanno davanti e mi interessa sapere anche l'opinione di Nicola Rossi e delle persone a questo tavolo. Cosa fare in questo interregno che non credo sarà breve in cui rimane l'incertezza sulla capacità e volontà dell'Europa di reagire a questa sfida? Qual è la priorità? Io credo che ci sono due risposte, entrambe hanno argomenti importanti a loro sostegno. Una risposta è che dobbiamo fare di tutto per abbattere il debito pubblico perché una delle ragioni della credibilità del nostro paese è la grande dimensione del debito pubblico e quindi cerchiamo di abbatterlo con privatizzazioni del patrimonio immobiliare magari con provvedimenti che non sono totalmente rispettosi del mercato. Una seconda impostazione è invece dire che dobbiamo riuscire a trasformare l'economia italiana non soltanto nel senso del funzionamento dei mercati ma nel senso proprio della governance, dei rapporti tra cittadini e Stato. Questo vuol dire privatizzare non tanto il patrimonio immobiliare ma invece le società che producono sui mercati perché questo tipo di privatizzazione cambia la governance dell'economia, vuol dire rendere operativo il vincolo di bilancio in pareggio aggiustato per il ciclo, per tener conto dei problemi congiunturali creando magari istituzioni di sostegno al vincolo di bilancio in pareggio come è avvenuto in altri paesi europei e non europei. Mi riferisco a agenzie fiscali indipendenti, fiscal councils che aiutano a dare credibilità che sarà in futuro rispettato il vincolo di bilancio in pareggio, vuol dire riformare la giustizia perché questo è un aspetto fondamentale per la governance, vuol dire magari privatizzare la RAI e non soltanto mettervi un consiglio di amministrazione che sappia funzionare quindi trasformare in maniera duratura anche dopo il 2013 il modo in cui è gestita l'economia italiana. Ecco, la mia opinione, naturalmente questi due progetti, queste due priorità non sono alternative, possono essere entrambe perseguite. Io credo che sia più importante oggi la seconda che non la prima perché la prima rischia di essere poi poco rispettosa di quegli stessi principi di governance che noi invece riteniamo così importanti per far funzionare bene l'economia italiana. Quindi forse questa sarà, io credo, una discussione importante che vedremo in Italia nei prossimi mesi, passata la spending review. Il governo dovrà scegliere delle priorità, ci sarà sicuramente una priorità, una spinta a dire facciamo il possibile per abbattere il debito pubblico. Io credo che nel pochissimo tempo che ancora ha a disposizione questo governo le priorità debbano essere date soprattutto al cercare di trasformare la governance dell'economia italiana per dare credibilità al fatto che una volta che è finita questa parentesi del governo tecnico riusciamo a restare in piedi sulle nostre gambe con o senza l'Europa perché l'Europa sarà un punto interrogativo credo che durerà oltre probabilmente l'orizzonte di questo governo. Grazie. 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 Grazie.